Convalidato il fermo del marocchino accusato di aver violentato una sedicenne a Nereto. Sospeso il processo al ragazzo che voleva uccidere una dipendente comunale di Pineto per mangiarne i piedi. Ad Antri, una delle zone più colpite dal maltempo, la situazione sta tornando alla normalità. Il 17 febbraio di sei anni fa crollava la discarica alla torre. Ieri durante il processo è stato ascoltato l'allora assessore comunale Berardo Rabbuffo. Presentati oggi in provincia i risultati della campagna di comunicazione e installazione riguardante il solare termico. Nella sala espositiva dell'Arca, a Teramo, spazio alla personale di Gabriele Arruzzo, essere un'isola che sarà possibile visitare fino a Pasqua. Giulia Nova Milazzo in programma domenica Alfadini si giocherà a porte chiuse. Sarà Francesco Guccini di Albano Laziale a dirigere la sfida tra Teramo e San Benedettese. Coda i punti vendita venduti al momento oltre 1500 biglietti già esauriti, 1500 tagliandi in dotazione ai tifosi rosso-blu. Vispesaro San Nicolò e il recupero Sant'Egidiese e Civitanovese del 22 saranno giocate mercoledì 29. Il presidente della Banca Tercastera Molino Pellecchia dice se non arrivano soldi freschi non si va avanti. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Buonasera, apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il GIP del Tribunale di Teramo Marina Tommolini ha convalidato il fermo del Pubblico Ministero per il disoccupato marocchino di 29 anni, accusato di aver stuprato la notte di lunedì scorso una studentessa 17enne che vive in Annereto. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Nel corso dell'interrogatorio al giovane è stata contestata la responsabilità anche di un altro caso di violenza carnale nei confronti della stessa minorenne consumato nello scorso mese di dicembre. Il giovane extracomunitario assistito dall'avvocato Leonardo Viglione ha respinto ogni addebito, ribadendo di non conoscere la minorenne nonostante entrambi vivano nella stessa cittadina. Nella sera di lunedì in particolare il marocchino che risiede con regolare permesso di soggiorno e svolge saltuari lavori in edilizia ha riferito di aver trascorso la serata al bar con gli amici e di essere poi rincasato. Secondo quanto riferito in ambienti investigativi, la giovane vittima dello stupro avrebbe raccontato di aver subito violenza da almeno due persone oltre al marocchino arrestato, del quale aveva fornito una più precisa descrizione somatica. È stato sospeso il processo per tentativo di omicidio contro Luca Michelucci, l'operaio 23enne di Pineto, che lo scorso 15 novembre aveva accoltellato, offrendola gravemente una dipendente comunale nella Pineta storica, con l'intenzione di ucciderla per poi mangiarne i piedi. La decisione è del GIP Giovanni De Rensis, che ha preso atto della perizia che lo psichiatra Sabatino Trotta ha depositato e in cui definisce il giovane pinetese incapace di intendere e di volere socialmente pericoloso. Il legale difensore di Michelucci, l'avvocato Antonino Orsatti, ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere e il ricovero in una struttura psichiatrica protetta, individuata in accordo con il perito in quella di Castiglione dell'Estiviere, nel Mantovano. Il GIP si è riservato di decidere sulla richiesta. Michelucci sarà sottoposto periodicamente a perizia per stabilire se e quando in futuro poter eventualmente sostenere un processo. Non avrà nessuno sconto di pena in caso di condanna Francisca Venisio Medina, la dominicana di 28 anni, sul banco degli imputati a Teramo per aver ucciso il 19 maggio scorso l'ex imprenditore di origini napoletane Carmine De Luca, 69 anni, nell'abitazione di Piano Grande di Torricella Sicura. I giudici della Corte d'Assise di Teramo, in dinanzi ai quali si è aperto oggi il processo con rito immediato per omicidio volontario aggravato, hanno infatti respinto la richiesta, rinnovata dopo che era stata già respinta dal GIP, di concedere il giudizio abbreviato condizionato. Analogo riggetto, i giudici lo hanno affermato alla preliminare richiesta della difesa di eccezione di nullità del giudizio immediato, chiesto e ottenuto dalla pubblica accusa. Il processo dunque va avanti. Il 17 febbraio di sei anni fa crollava la discarica alla torre a Teramo. Ieri durante il processo è stato ascoltato l'allora assessore comunale a Ramo, Berardo Rabuffo. Noi l'abbiamo intervistato. Il 17 febbraio di sei anni fa crollava la discarica alla torre e oggi è il 17 febbraio, venerdì 17 febbraio. Ieri Berardo Rabuffo, che all'epoca era assessore comunale al Ramo, è stato sentito in tribunale per il processo per il crollo della discarica. Siamo tranquillamente sottoposti al giudizio della magistratura che acclarerà certamente tutte le varie responsabilità. È un bell'anniversario, dopo tanto tempo, tutti i lavori, tutto quello che abbiamo fatto e anche quello che ho sostenuto nelle circa tre ore in cui sono stato esaminato in tribunale. Che cosa è emerso? Ho detto ovviamente tutte cose vere e riscontrabili, cioè che la discarica di Teramo, che presentava sempre delle criticità, tuttavia non ha avuto mai sequestri o mai divieti per conferire i rifiuti. Quindi è stata una discarica sempre autorizzata, a differenza di tutte le altre discariche presenti già nel territorio provinciale di Teramo, che erano sequestrate. Quindi questo è già un primo dato significativo. Abbiamo sempre conferito e non potevamo fare altro come amministratori, perché la discarica per un comune è una risorsa. Io do soltanto un dato ai cittadini. Il costo della TIA, perché adesso abbiamo la tariffa di igiene urbana, quindi tanto è il costo e tanto viene ripartito tra i cittadini, nel 2005 era di 6 milioni di euro. Oggi, con la differenziata, che tra l'altro io non condivido nemmeno in pieno, perché si può fare una differenziata anche senza farla così spinta col porta a porta nelle famiglie, quindi si è passati da 6 milioni di euro di tariffa di igiene urbana a 12 milioni di euro nel 2011. Quindi il costo è raddoppiato. In una nota del Partito Democratico, il consigliere regionale Claudio Ruffini scrive «Da parte nostra non può che esserci approvazione per la decisione della consulta nel dichiarare incostituzionale la tassa sulle disgrazie». Questo è il commento di Claudio Ruffini sulla recente notizia che sembra riaprire uno spiraglio sull'alluvione nel Terramano. D'altronte, il Partito Democratico era stato vigile e promotore fin da subito di azioni politiche affinché vi fosse giustizia ed equità di trattamento, continua Ruffini, per i territori colpiti dall'alluvione. Aggiunge poi il consigliere regionale, che replica il consigliere Chiavaroli, il quale rivendica la tempestività di chiodi nel ricorrere contro il governo. Nonostante sia passata la bufera di neve da alcuni giorni e le varie amministrazioni abbiano provveduto a rendere meno pesanti i disagi dei cittadini, il Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà di Terramo si unisce alla voce dei dipendenti ospedalieri che con rammarico devono constatare che non si è provveduto a rimuovere i cumuli di neve nelle varie aree del nosocomio, nella maggior parte ancora transennate con impossibilità di trovare un'area di sosta. Il Circolo Sel di Terramo non vorrebbe che ciò nasconda la volontà di costringere i dipendenti ad utilizzare il parcheggio privato. Si legge in una nota. Torniamo a parlare del maltempo. Ad Atri è una delle zone più colpite. La situazione sta pian piano tornando alla normalità. Il servizio. Qual è attualmente la situazione ad Atri dopo l'emergenza maltempo? Ricordiamo che Atri, tutto il territorio comunale, è stato uno dei più colpiti da questa ondata di maltempo. Sì, Atri è un territorio particolarmente grande, come ben sapete. Questo ha creato grandi difficoltà, soprattutto per i grandi accumuli di neve che ci sono stati nelle zone periferiche e nel centro storico. Devo dire, come provincia siamo riusciti a ripristinare immediatamente la viabilità, soprattutto per l'ospedale, che è stata la nostra priorità assoluta, e poi, chiaramente, nelle ore successive, le altre arterie periferiche. Anche l'amministrazione comunale, devo dire, ha svolto un grande lavoro. C'è stato bisogno però dell'esercito. Sì, il sindaco è stato in prima linea, è arrivato l'esercito, ha creato un ulteriore supporto grazie a questo mezzo speciale che ha portato e ci ha consentito di fare degli interventi specialistici, diciamo, su alcune abitazioni che effettivamente erano rimaste isolate e dove i nostri mezzi non riuscivano materialmente, per i grandi accumuli che arrivavano anche a tre metri di altezza, a riuscire ad aprire un varco in quelle zone. Dicevamo adesso la situazione quale? Si sta normalizzando pian piano? Si è normalizzata, le sale sono state totalmente pulite, stiamo sgomberando la neve, anche il centro storico è stato ripulito attraverso l'utilizzo di Bobcat, è stata caricata la neve, quindi smaltita in altri luoghi, quindi diciamo che oggi la situazione è buona. E' chiaro, abbiamo ancora dei grossi accumuli di neve sulle varie arterie delle provinciali e delle comunali che solo il tempo e il sole, un po' di pioggia magari riusciranno a smaltire. E adesso a Giulia Nova dove il Consiglio Comunale ha approvato l'accordo di programma tra ARPA, Comune e Privati che prevede la delocalizzazione del deposito delle autoline regionali pubbliche abruzzesi in un apposito complesso da realizzare in Via Cupa. Il Consiglio Comunale ieri anche a Teramo, question time, interrogazioni e proposte dagli opposizioni e grande risalto al piano neve messo in campo dall'amministrazione. Vediamo il servizio. BIM, Teatro Romano, Università e Emergenza Abitativa. Sono questi i temi caldi che hanno tenuto banco ieri a Teramo nel corso del Consiglio Comunale. Una seduta è incentrata sul question time ma prima ancora sul piano neve. Un'intera ora per sottolineare come la macchina organizzativa dell'amministrazione comunale teramana si è riuscita a fronteggiare l'emergenza maltempo. E poi via le interrogazioni. La prima quella di Santa Croce di rifondazione che ha iniziato ponendo quesiti sullo scioglimento o meno del Consorzio BIM. Santa Croce ha infatti criticato la mancanza di un dibattito sull'utilità dell'ente e ha perciò proposto una discussione sull'argomento prima di prendere una decisione definitiva. Proposta che è stata accolta dal primo cittadino teramano Maurizio Brucchi. I riflettori sono poi stati puntati sulle antiche pietre del Teatro Romano. Pietre intoccabili e per le quali si è suggerito uno studio delle stesse che passa attraverso un allargamento degli spazi così da avere maggiore facilità di catalogazione. Proposte interessanti sono poi giunte dal consigliere del Partito Democratico, Gian Guido D'Alberto, che ha suggerito l'istituzione di una commissione consigliare mista di cui facciano parte anche gli studenti dell'università e Valdo di Bonaventura che ha chiesto all'amministrazione comunale di fronteggiare l'emergenza abitativa che attanaglia la città. Ci sono 170 richieste di alloggi ferme e secondo di Bonaventura le abitazioni dovrebbero essere assegnate in primis agli abitanti di Via Longo, zona destinata a future demolizioni. Conclusi gli interventi di rimozione dei cumuli di neve e del ghiaccio anche nelle aree interessate al mercato settimanale, l'amministrazione comunale di Teramo rende noto che nella giornata di domani il mercato settimanale si svolgerà regolarmente per le vie del centro storico. Il Partito Democratico Teramano a fianco di Teramo Nostra per il completo recupero del teatro romano. I reperti archeologici devono restare dove sono. I soldi necessari al loro spostamento si possono utilizzare per completare l'acquisizione e l'abbattimento di casa Salvoni e di casa Adamoli. Questa è la teoria. Vediamo il servizio. ...interviene in merito al recupero del teatro romano. Il PD ha sempre sostenuto, si legge nella nota, il recupero del teatro romano sin dal principio, con decine di interrogazioni. Lo spostamento dei reperti archeologici è parte di una prospettiva ben più ampia e chi lo considera come fondamentale per il futuro del cantiere è paragonabile a chi, anziché di guardare la luna, si ferma al dito che la indica. Riteniamo, dice ancora nella nota il PD, che le antiche pietre romane siano parte integrante dell'importante monumento archeologico e come già proposto dal PD in Consiglio Comunale a Teramo, devono essere utilizzate nella ricostruzione e nel riuso del teatro, senza trasferimenti inutili. È utile invece che l'amministrazione comunale di Teramo faccia conoscere ai cittadini qual è il progetto, se esiste, sul recupero complessivo dell'opera, quali sono i fondi attualmente a disposizione, quanti ancora ne saranno necessari e da dove verranno presi per uscire da una situazione di indefinitezza come l'attuale. Ci chiediamo, prosegue ancora la nota del PD, se valga la pena, in questi tempi di ristrettezze economiche, utilizzare ben 500 mila euro per lo spostamento dei reperti, mentre invece si potrebbero investire queste risorse così importanti per il completamento dei lavori nella direzione dell'acquisizione ed abbattimento dei due ruderi di Palazzo Adamoli e Casa Salvoni. Aospichiamo pertanto, si conclude la nota del PD, un'ulteriore mediazione, ascolto ed attenzione nei confronti delle tesi di chi da più di dieci anni è spesso in solitudine, come l'Associazione Teramo Nostra, porta avanti una lodevole iniziativa che condividiamo in pieno nell'interesse del miglioramento delle prospettive della città di Teramo. Domenico Giambuzzi è il nuovo direttore tecnico della Ruzzo Reti S.p.a. Lo ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nell'ultima riunione. Giambuzzi, 58 anni, ingegnere specializzato in idraulica con tesi progettuali, originario di Ortona, ha percorso gran parte della sua carriera professionale proprio all'interno della Ruzzo Reti, dove è arrivato nel 1981. Si tratta di un professionista di grande valore, ha commentato il presidente della Ruzzo Reti, l'avvocato Claudio Strozieri. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dai genitori e operatori scolastici sull'accorpamento della scuola elementare Noelucidi con la media Zippilli. Vediamo. È sempre più vicino l'accorpamento di due scuole teramane, la elementare Noelucidi con la media Zippilli. Il Tar dell'Aquila ha infatti respinto la richiesta di sospensiva della delibera provinciale sulla proposta del nuovo dimensionamento scolastico. A sostenere le ragioni della delibera licenziata dal Consiglio provinciale il 16 dicembre scorso, l'avvocatura dell'ente con l'avvocato Gaetano D'Ignazio e l'avvocatura di Stato in rappresentanza della Regione Abruzzo. La richiesta di sospensiva era stata presentata da genitori e operatori scolastici e riguarda i provvedimenti assunti dal Comune di Teramo, poi accolti da provincia e Regione, circa l'accorpamento della scuola elementare Maternano e Lucidi con la scuola media Zippilli e quindi l'accorpamento fra la San Giorgio e la Savini-San Giuseppe. Considerata la decisione del Tar, i genitori che devono iscrivere i figli alla scuola media dovranno attenersi a quanto deliberato nel nuovo piano, salvo aspettare il pronunciamento di merito la cui odienza non è stata ancora fissata. È doveroso difendere le proprie scelte anche di fronte al giudice amministrativo, hanno commentato il presidente della provincia Walter Catarra e l'assessore alla pubblica istruzione Giuseppe Antonio Di Michele. Pur comprendendo le ragioni dei singoli, che legittimamente ritengono di dover affermare e difendere una posizione diversa da quella decisa da provincia e Regione, noi dobbiamo privilegiare una visione d'insieme, che in questo caso è stata quella rappresentata dall'amministrazione comunale di Teramo e dai suoi progetti. Se fosse stata accolta la richiesta di sospensiva, tutto il piano sarebbe stato congelato con evidenti problemi per l'intera rete scolastica provinciale, per le famiglie e per gli alunni. Bisogna tenere bene a mente però che questa non è la sentenza definitiva, che arriverà solo con il pronunciamento di merito da parte del TAR. Un servizio sociale per aiutare da vicino, in concreto, le persone che hanno problemi di salute mentale. E questo è l'obiettivo del progetto di assistenza domiciliare ad utenti psichiatrici, approvato di recente dall'Aggiunta dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata, guidata da Alberto Pompizzi. Nel contesto del piano regionale di interventi a favore delle famiglie in Val Vibrata, l'iniziativa che si svolge nell'ambito territoriale sociale numero 2 Vibrata, in linea con la legge regionale 95 del 95, prevede una spesa di 20 mila euro per offrire un servizio di assistenza domiciliare psichiatrica a circa 10 utenti già individuati. Anche se si parla di cassa integrazione, il traguardo raggiunto è comunque importante. L'assessore provinciale Eva Guardiani ha espresso soddisfazione per gli accordi firmati ieri a Roma che hanno interessato l'azienda tessile al De Manifatture di Corropoli e la Golden Lady di Basciano. Per due aziende terramane, la De Manifatture e la Golden Lady, proprio ieri è stata fatta richiesta di cassa integrazione, richiesta che è stata accettata? Sì, richiesta di cassa integrazione per entrambe le aziende. Ieri una coincidenza, insomma, siamo stati a Roma per entrambe le situazioni che avevamo già trattato qui in provincia, quindi le vertenze erano state portate avanti e quindi alla richiesta dell'azienda, si è associata anche la nostra con quella dei sindacati, una cassa integrazione straordinaria per cessazione, 12 più 12 per due anni, con delle condizioni che danno anche un sostegno per i lavoratori. Per quanto riguarda la Golden Lady c'è una particolare soddisfazione perché sì, si parla sempre di cassa integrazione per cessazione, quindi non è che sono notizie positive, però è stata fatta veramente un'attività di coordinamento tra non solo i sindacati, l'azienda stessa sempre molto disponibile, che si parlava di un esubero inizialmente di 100 unità, siamo arrivati a 40 e questo già era un successo, cessazione di due settori produttivi, ma comunque il sito produttivo rimane a Basciano e questo è importante. Questa è forse l'unica buona notizia di questa vicenda? Sì, era a rischio anche il sito produttivo di Basciano, quindi questo è anche assolutamente un successo, un qualcosa da apprezzare. L'intesa, insomma, sottoscritta ieri è che questa cassa integrazione ha determinate condizioni, quindi che nel primo anno il 30% dei lavoratori, quindi Golden Lady 40 e Ad Manifatture 60, devono comunque essere ricollocati. Sono due gli appuntamenti culturali organizzati questa settimana dalla Banca di Teramo. Il primo è la mostra di pittura Dante e i traditori, allestita nella sala Carino Gambacorta della sede centrale dell'Istituto di Credito. Il secondo appuntamento è invece fissato per domani alle 17.30 nel Palazzo Cursal di Giulianova, dove sarà presentato il nuovo libro dello storico Ottavio di Stanislao. Il volume si intitola Giulianova, le modifiche ottocentesche alla città acqua viva, e appare per le edizioni Banca di Teramo. Sono stati presentati questa mattina in provincia i risultati della campagna di comunicazione e installazione riguardante il solare termico. Vediamo. Si è conclusa la campagna di comunicazione e installazione realizzata dalla provincia e finalizzata a promuovere la diffusione dei pannelli solari termici per la produzione di acqua calda d'uso domestico. Le iniziative realizzate tra i mesi di dicembre e gennaio scorsi hanno provisto la realizzazione di sportelli informativi, sia in forma fissa che itinerante, attività didattiche nelle scuole, distribuzione di materiale informativo e attività di comunicazione ad ampio raggio per raggiungere l'intera collettività provinciale. Praticamente abbiamo fatto delle azioni sul territorio. Vorrei ricordare che abbiamo aperto per due mesi un ufficio in provincia di Teramo a disposizione di tutti gli utenti che volevano informazioni più approfondite per quanto riguarda l'installazione di impianti solari termici e diciamo che sono stati diversi i contatti avvenuti all'interno di questo ufficio. Ma certamente precedentemente era stata fatta un'altra azione. Siamo stati praticamente in quattro città della provincia di Teramo a fare proprio azione di sensibilizzazione e di informazione per quanto riguarda appunto il solare termico con circa 300 persone contattate che si sono avvicinate a questi gazebo che abbiamo portato appunto sul territorio. E poi successivamente attraverso appunto questo ufficio aperto in provincia c'è stato un approfondimento rispetto alle pratiche da fare per diciamo così realizzare questi impianti sul solare termico. E' stata presentata questa mattina presso il laboratorio L'Arca a Teramo la personale di Gabriele Arruzzo. Essere un'isola, il servizio. Essere un'isola è il titolo della mostra di Gabriele Arruzzo che espone in questi giorni nelle sale espositive dell'Arca a Teramo. Un'isola sì, ma un'isola un po' inquietante. Beh, apparentemente al primo sguardo sembra tutto molto caramellato con colori squillanti, giocosi. E poi c'è un sottotesto, sì. Gabriele Arruzzo io credo che sia anche la sua qualità. Cioè oggi riprodurre la pittura figurativa può essere anche stucchevole. Invece lui lo riesce a fare con una sorta di grande capacità manuale perché le opere sono molto complesse dal punto di vista della realizzazione usando degli smalti che sono dei materiali molto difficili da padroneggiare che lui lo fa da grande maestro. Nello stesso tempo, dicevamo, sotto questo paesaggio quasi fiabesco ci sono sempre degli elementi inquietanti. Io credo che sia una caratteristica che lo contraddistingue e che lo faccia diventare un autore importante proprio per questo perché altrimenti sarebbe un illustratore. I colori sono molto particolari di quest'artista? Sì, sono colori studiati sulle gamme in qualche modo cromatiche che si intrecciano fino a creare un vero e proprio caleidoscopio. Quindi il termine possono essere i puzzle spesso, no? Infatti sono tanti simboli, spesso anche incongrui, arrivano dalla religione cattolica e poi sposano insieme Walt Disney, poi lo mettono insieme con quelli che sono l'immaginario delle nostre favole con citazioni molto raffinate dal punto di vista iconografico. Quindi io credo che sia un autore complesso e le opere apparentemente sembrano svelarsi immediatamente, ma se noi stiamo a guardare scopriamo tante piccole cose che non avevamo visto ad un primo impatto. E a proposito dell'Arca, il primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi, torna a parlare di questo progetto culturale. Ancora una mostra importante in questo nuovo spazio espositivo? Sì, una mostra importante, anche particolare se vogliamo. Questa collaborazione con Casa Raffaello di Urbino, continua l'attività dell'Arca, che è un'attività che da quando abbiamo inaugurato non si è mai fermata, con tutta una serie di mostre importanti, da Bresson, da Stampone, Visca e adesso Arruzzo. Insomma, nel percorso culturale è una parte del percorso che vive, vive, devo dire, intensamente, con una presenza di visitatori importante. Che tipo di percorso state seguendo? Ma io, insomma, abbiamo diviso un po' le attività. Da una parte abbiamo l'attività della Pinacoteca e del nostro museo civico, che è, diciamo così, ha caratteristiche più classiche, se vogliamo, con tutte le attività che abbiamo fatto, la mostra delle Madonne. Insomma, ci ricordiamo tanti eventi. E qui, invece, è un'attività di arte contemporanea. Ripeto, da quando è stata inaugurata non ci siamo mai fermati. Continua questo rapporto con Casa Raffaello, che è un rapporto molto proficuo, perché tutto ciò che, diciamo, prima passa a Casa Raffaello, poi per questa collaborazione viene qui a terra. E noto con piacere che sta diventando un punto di riferimento anche per i giovani, che era un altro obiettivo quando abbiamo inaugurato l'Arca. Per cui, insomma, io credo che stiamo offrendo un buon prodotto alla città di Teramo e lo vediamo anche dai numeri, perché le presenze all'interno dell'Arca sono sempre molto elevate. L'associazione Fontanelle 2000 organizza Carnevalissimo 2012 per martedì 21 febbraio. Scherzi e tanto divertimento anche con un animatore per grandi e piccini. La manifestazione si svolgerà a partire dalle 16 presso i locali dell'ex consorzio in piazza Sinopoli a Fontanelle di Atri. L'ingresso è libero. Bene, è il periodo di Carnevale. Allora tutti attenti per sapere, soprattutto dopo quello che abbiamo passato in questi giorni, quali sono le previsioni del tempo. E allora ci dice tutto per domani che è sabato grasso di Meteoteramo.it Previsioni per domani in provincia di Teramo. Giornata soleggiata su gran parte del territorio provinciale, ad eccezione di innocue velature e stratificazioni in transito, a partire dal pomeriggio, tra sera e notte addensamenti in intensificazione lungo la dorsale appenninica, ma senza fenomeni da segnalare. Temperature in aumento, massime comprese tra 9 e 12 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 10 e 13 gradi sulle coste, venti deboli occidentali, mari calmi. E siamo arrivati alla pagina sportiva. Iniziamo con il calcio. La questura di Teramo ha fatto pervenire al sindaco Francesco Mastromauro una nota con la quale ha disposto che la partita Giulia Nova a Milazzo non può essere disputata al Fadini a porte aperte. La decisione fa leva sulla recente normativa entrata in vigore nel novembre scorso riguardante la sicurezza negli stadi ubicati in area urbana con previsioni assai rigide circa gli impianti antincendio. Le carenze riscontrate nell'impianto Giuliese che implicano ulteriori interventi di adeguamento ammontanti a circa un milione e mezzo di euro in aggiunta a quelli di ingente entità finora effettuati dall'amministrazione comunale di Giulia Nova non hanno quindi consentito proprio in base alla normativa di dar seguito alla proposta che era stata avanzata dal sindaco Mastromauro di consentire l'ingresso ad un numero ridotto di spettatori. Dunque la gara Giulia Nova-Milazzo si svolgerà a porte chiuse. E parliamo adesso di Serie D sarà Francesco Guccini di Albano Laziale ad arbitrare il big match in programma domenica prossima al comunale di Piano Daccio tra Teramo e San Benedettese. Francesco Furnò di Roma 1 dirigerà invece la gara tra Real di Sernia e Sant'Egidiese ma sale la febbre a Teramo per la partita di domenica prossima già venduti oltre 1500 tagliandi ai tifosi bianco-rossi. Si va per superare quota 2000 ma sarà ampiamente superata nel corso di domani. Oggi si sono infatti registrate code ai punti vendita una cosa che non si ricordava più dai tempi d'oro del Teramo di Zecchini. Domani fino alle 19 la prevendita per la curva fino a domenica mattina invece per il settore di tribuna. Già venduti tutti invece i 1500 biglietti riservati ai tifosi marchigiani. La società comunque del Teramo ricorda che i tagliandi possono essere acquistati solo presso i punti vendita ufficiali e solo dai residenti in provincia di Teramo. La vendita per di più è monitorata dalla polizia questo perché si era diffusa la voce che potevano essere acquistati da tifosi della San Benettese dei biglietti di tribuna in alcune zone della costa e invece non è così. I punti vendita sono quelli ufficiali non possono essere acquistati biglietti altrove. Ancora in dubbio nel Teramo la presenza di Borrelli e d'Arcamone. Gli ultimi dubbi verranno sciolti domani nel corso della seduta di rifinitura. Però abbiamo anche un'altra notizia che riguarda la Serie D perché intanto è stata rinviata al 29 febbraio la partita tra Vispesaro e San Nicolò. Il prefetto di Pesaro Urbino non ha revocato l'ordinanza di chiusura negli stadi. Dunque Vispesaro-San Nicolò non si giocherà domenica ma si giocherà mercoledì 29. Ed è stato rinviato anche il recupero santegigliese-civitanovese che era in programma per mercoledì prossimo 22 febbraio e si giocherà anche questo il 29. Per quello che riguarda invece le gare di domenica prossima in Serie D nel Girone F sono state rinviate anche Luco Canistro Olimpia Agnonese Atletico Trivento Miglianico e Atessa Valdisangro Recanatese. Ma torniamo a parlare di Teramo San Benedettese con questo servizio. Prima contro seconda con una differenza di 4 punti è inutile girarci attorno. La sfida di domenica a piano d'accio che metterà di fronte il Teramo capolista e la lanciatissima San Benedettese potrebbe rappresentare un passaggio forse decisivo per le sorti del Girone F e della Serie B. Il Teramo, sempre vittorioso nelle ultime 6 gare casalinghe ha la possibilità vincendo lo scontro diretto di portare a 7 punti il vantaggio sull'inseguitrice e di iniziare a guardare il futuro con minori apprezzioni anche alla luce di un calendario che non sembra impossibile. Di contro la Samb in serie utile da 15 gare capace di vincere le ultime 10 partite alla sfida di domenica affida le sue credenziali per riaprire in maniera definitiva il campionato almeno per quanto riguarda il primo posto. I dati, mai così esemplificativi mostrano quella che è l'importanza della sfida di domenica prossima e di quella che è l'attesa che si respira soprattutto sulle versanti marchigiano. Un altro aspetto da tenere conto riguarda il modo con il quale le due formazioni torneranno in campo dopo le due settimane di sosta. Capitolo formazioni nel Teramo sono da valutare le condizioni di Borrelli e Arcamone che lamentano acciacchi fisici di varia natura. Cappellacci ritrova Serraiocco dopo la parentesi con la rappresentativa di Serie D a Viareggio mentre sarà assente Valentini squalificato che sarà rilevato nei compiti con ogni probabilità dall'ex Traini. Sul versante marchigiano invece non ci sarà il capitano Mengo fermo per squalifica oltre al lungodeggente Rulli. Torna disponibile invece il talentuoso Di Bicino. Nella storia recente di Serie D il Teramo ha vinto gli ultimi tre incontri con la Samb compreso il successo 3-1 nella gara di andata a Riviera delle Palme. E adesso il basket Lino Pellecchia che abbiamo ascoltato dopo essere stato ospite oggi della nostra trasmissione Link che vi ricordo potrete seguire in replica alle 21 ha lanciato l'allarme se non arrivano soldi freschi non si va avanti ascoltiamolo. Presidente ieri sono stati pagati gli stipendi di Lega di dicembre ma la situazione non è ancora risolta manca ancora qualcosa. Manca tante cose mancano sì ieri abbiamo pagato gli stipendi di dicembre anche perché dovevo farlo come devo versare i contributi relativamente a dicembre dicevo poco fa al suo collega Alfredo Giovannozzi il problema è non è attuale perché vabbè ieri abbiamo pagato il suo stipendio ma dobbiamo arrivare al 3 maggio questo è il problema grosso se non arrivano soldi freschi qui non si va avanti. Per farlo la Teramo Basket deve avere un nuovo sponsor entro la prossima settimana? Allora anche questo voglio chiarire ho dato io notizie non molto precise nel caso non sarà un nuovo sponsor sarà uno sponsor che ha pensato di contribuire più cospicuamente alla vita del Teramo Basket però sì entro da fare la decisione dovrebbe essere presa entro la settimana prossima. E se questo non dovesse accadere sarebbe un problema molto serio sarebbe un problema molto serio perché ripeto per finire il campionato ci vogliono i soldi così abbiamo pagato dicembre una parte degli stipendi per cui sarebbe inutile andare avanti così giorno per giorno a me sembra un pochettino anche per me è una sofferenza. Sente vicino a lei la volontà di istituzioni di voler risolvere questa situazione di voler aiutare dare una mano alla Teramo Basket Io penso di sì io voglio sperare che da parte di tutti non mi riferisco a nessuno parlo dall'ultimo tifoso alla primo che ci si renda conto che fa scomparire oggi una società di Serie A a oggi a due mesi dalla fine del campionato secondo me è un peccato. E la bancaterca Steramo tornerà in campo il prossimo 26 febbraio domenica 26 febbraio a Bologna il campionato infatti fermo questo fine settimana per consentire la disputa delle final eight di Coppa Italia intanto in occasione della gara casalinga contro Venezia il prossimo 3 marzo è stata indetta la giornata bianco-rossa ma torniamo adesso alla situazione economica della società con questo servizio La vittoria contro Biella i pagamenti degli stipendi di dicembre sembrano gli ultimi atti di vita di una Teramo Basket che al momento sembra percorrere il miglio verde dei condannati a morte pare un'esagerazione ma è difficile sostenere il contrario ed i motivi non sono evidenti solo per chi è così cieco da non vedere la Teramo Basket quella che gioca fuori dal campo ancora una volta la partita per non scomparire aspetta che vengono espletate tutte le pratiche per far sì che il nuovo sponsor una sorta di Mr. Fantastic possa versare nelle casse della società bianco-rossa una cifra poco al di sotto del milione di euro per ricevere tanto ben di Dio inutile spiegare che devono essere compiute alcune operazioni bancarie con quel popò di cifra Lino Pellecchia e di suoi finirebbero la stagione in panciolle potendosi concentrare solo sulla salvezza all'interno del parquet la tempistica dell'operazione continuamente rimandata sembra essere quello che vuole il tutto compiuto per la prossima settimana se ci sarà la volontà di farla volontà già propria del nuovo sponsor che non vede l'ora di diventare il nuovo remmida della termobasket un altro dato da considerare è che i fantomatici 540.000 euro da un mese delle mani di Lino Pellecchia sotto forma di bel quadro non sono ancora diventati denaro contante se si pensa che gli stipendi di ieri spifferi e voci di corridoio dicono siano stati anticipati dallo stesso presidente della termobasket per non incorrere in penalizzazioni da parte della Lega se non arrivasse il mister fantastic se i giocatori non avessero al più presto il resto degli arretrati è difficile credere che la stagione della termobasket sul parquet proseguirebbe la domanda logica che ogni tifoso terramano si pone c'è la volontà da parte di istituzioni istituti di credito e attori vari ed eventuali di far continuare a vivere la termobasket e di fare magari più dell'ordinario la settimana prossima se ne saprà qualcosa in più intanto la via per Bologna prossima gara della squadra di Ramagli sembra il miglio verde dei condannati a morte e nel fine settimana riprenderanno anche i campionati dilettantistici regionali di calcio anche se il programma del torneo di eccellenza sarà decisamente ridotto nello specifico infatti si giocheranno solo due gare Mosciano sul Mona domani sul neutro di Martinsicuro e Rosetana Sporting Scalo che si disputerà domenica sempre a Martinsicuro tutte le altre partite valide per la ventesima giornata sono state rinviate La Palamano partirà domenica la seconda fase del campionato di serie A femminile la Leader Cup Teramo sarà in campo a Pontigna per affrontare la squadra federale La Leader Cup Teramo gioca la prima gara della fase d'orologio il 19 febbraio Il 19 febbraio a Pontigna alle 12 un orario un po' strano però la federazione ha stabilito questa data noi dobbiamo accettare andare lì e giocarcela Contro la squadra federale Contro la squadra federale sì una squadra sperimentale in previsione delle Olimpiadi in Brasile E voi però avete già battuto due volte Battuto già due volte cioè una partita che secondo me sulla carta è chiaro che ci vede nettamente favoriti e se vogliamo puntare a qualcosa che non nominiamo dobbiamo partire col piede giusto Non nominiamo oramai per scaramanzia Sì per scaramanzia però se vogliamo puntare in alto dobbiamo partire col piede giusto anche perché per come è combinata questa fase l'altra partita di cartello è Sassari-Salerno Che giocano però prima di voi Giocano il sabato quindi la sera prima e noi a questo punto sapremo anche già il risultato e se per caso dovesse scivolare il piede al Salerno noi potremmo già conquistare la prima posizione che ci darebbe oltretutto un grande morale ma ci metterebbe in condizioni di guardare tutti dall'alto e poi saranno gli altri a doverci rincorrere Voi partite con tre punti Noi partiamo con tre punti il Salerno con quattro Sassari con due la federale con uno E con la pallamano chiudiamo questa edizione del nostro notiziario grazie per l'attenzione buona serata Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Link noi ci vediamo alle 22.30 grazie per averci scelto grazie per averci scelto